Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video unboxing Pop in a Box Ebbene sì, è già passato un mese e ecco qui il nuovo pacco del mio abbonamento da 3 Pop a sorpresa Naturalmente vi ho già spiegato tutto in modo abbastanza dettagliato nel video precedente che vi lascio qui nelle schede E naturalmente lì vedrete il primo pacco che è stato una bomba E ragazzi io spero che questa volta vada altrettanto bene Nel video precedente ho ricevuto due pacchi separati per i miei 3 Pop Questo mese è arrivato un solo pacco, quindi probabilmente saranno Pop più piccoli O comunque ci sarà magari un Pop doppio e due piccoli Comunque tutto deve stare dentro questa scatola Quindi non so se andrà bene, andrà male, se andrà meglio del mese prossimo Adesso lo scopriamo assieme Prima di cominciare vi ricordo che le magliette che indosso sono di Pampling E trovate tutto linkato sotto l'info box Usando il mio codice sconto 7Potter Avrete 20% di sconto su tutto il catalogo Pampling da qui all'eternità Ragazzi, detto questo, cominciamo Sono super super curioso Quindi bisturi alla mano, tagliamo il nostro scotch Naturalmente da quando ho ricevuto il pacco precedente Fino al momento della spedizione del nuovo pacco Io ho avuto cura di segnare con pollice su, pollice in giù o con la coppa I Pop che già possedevo o che non volevo che mi arrivassero Quindi, ragazzi, molto molto importante Se attivate l'abbonamento Trovate naturalmente il link sotto in info box Diretto per attivare tutti gli abbonamenti Pop in a Box Stateci dietro Nel senso, dedicate magari una volta a settimana 10 minuti per andare lì a segnare i Pop nuovi Così da non ricevere mai brutte sorprese E vediamo se sono stato bravo anche questa volta E scopriamo cosa c'è all'interno Ragazzi, sembra molto molto buono Guardate qui Già il primo Pop che si vede è questo qui di Crash Bandicoot E ragazzi, sono super super contento E vi dico anche il perché Io questo Pop l'ho visto esposto da GameStop E costava una fucilata Costava intorno ai 35€ Quindi, alla fine, non l'ho mai comprato Per un motivo o per un altro Ma mi piaceva tantissimo Quindi sono super super contento Che mi sia stato incluso all'interno della box E ragazzi, guardate che bello Si tratta di Crash Bandicoot però Con la macchina Con il suo go-kart È davvero bellissimo Adesso lo de-boxiamo Così ve lo mostro meglio Tiriamolo fuori dalla sua bella scatola E anche dalle protezioni Ragazzi È davvero bellissimo Molto molto bello Guardate qui È nella sua tipica posizione da esultanza Quindi si tratta della fine della gara Quando vince O quando comunque taglia il traguardo Dove lui salta e dà la sua sgambettata laterale È davvero molto molto bello Le ruote non girano Per chi fosse interessato È abbastanza leggero La macchina è di una plastica molto leggera Però il pop ha un peso sufficiente Per non farlo ribaltare È davvero molto molto bello Questo sicuramente lo terrò fuori dalla box E ragazzi naturalmente Che ve lo dico a fare Già col solo costo di questo pop qui Mi sono ripagato l'intera box Quindi io sono davvero super super contento Di questo abbonamento Anche questo mese mi sembra Stia andando bene Quindi probabilmente lo terrò attivo Anche più avanti Anche dopo i tre mesi Che mi sono stati offerti da pop in a box Perché sicuramente ne vale la pena Il prossimo pop è quello di John Holloway E ragazzi Questo qui anche È un pop che io avevo messo Perché non volevo acquistarlo Nel senso non ho mai avuto occasione di acquistarlo Però mi era sempre piaciuto È un personaggio di Mad Men Una serie che seguo da diverso tempo E volevo un pop di questa serie E ho scelto lei E naturalmente ragazzi È uno di quei pop che tu magari vorresti Ma poi per una cosa o per un'altra Dai sempre precedenza ad altri pop Invece così ti arriva a casa A sorpresa Ed è una figata Questo è un pop molto semplice Un pop regular Ma che comunque a me piace È un personaggio che mi piace E ci tenevo ad averlo in collezione Anche perché oltre a pop di Harry Potter Ho anche una piccola collezione parallela Di personaggi di film, telefilm e serie tv Che seguo e che mi piacciono particolarmente Ma di quelle acquisto solo un personaggio Per ogni serie o per ogni telefilm O quello che è Perché non mi va di comprare Tutta l'intera collezione Però anche questa Fatta molto molto bene Con la sua sigaretta in mano Qui di dietro ha il suo fermaglio A forma di cuore E poi è addirittura truccata in faccia Devo dire che i dettagli Sono davvero molto molto carini In questi pop Sono pop semplici Ma che comunque hanno il loro perché Ma adesso andiamo a vedere Il terzo e ultimo pop Che c'è nella scatola Ragazzi si tratta di Un town Quindi si tratta di Un pop doppio Anche questi hanno Un gran bel costo E ragazzi Eccolo qui Si tratta di Scooby Doo E il maniero infestato E la casa infestata E ragazzi Ditemi voi se non è bellissimo Io non ho nessun pop di Scooby Doo Ma quando ho visto questo B-Pack Su Pop in a Box Ho subito messo il pollice verso l'alto Perché secondo me è fighissimo E già sono contento così Non penso che prenderò altri pop di Scooby Doo Ma avendo lui con la casa infestata Direi che i simboli principali ci sono E quindi adesso ve li mostro E sono super super soddisfatto Ragazzi Un pop town di questo tipo Anche questo sta Adesso non so esattamente il prezzo Su Pop in a Box Ma credo intorno ai 30 euro Quindi 30 Questo qui io l'ho visto da GameStop a 35 Quindi siamo già a 65 Un pop regular sta tranquillamente Sui 12-13 euro Quindi direi che abbiamo largamente superato il valore della box Come vi dicevo L'unica accortezza è quella di stare sempre lì A segnare le cose che piacciono e che non piacciono Non smetterò mai di ripetervelo Ok sto per distruggere la scatola Ma non si apre Ok ci siamo riusciti Quindi possiamo mettere da parte la scatola Togliamo le protezioni Oh mamma mia ragazzi L'ho preso al volo E ora con calma Tiriamo fuori anche il nostro Scooby Ragazzi Dal pacco Dalla confezione Non si notava Ma non è seduto Ma bensì Sulle sue Quattro zampe Anche la sua coda sollevata È davvero molto molto bella Questa versione di Scooby Ad esempio ho preso già quello di Hagrid con la capanna E la capanna è super dettagliata Molto molto bella È altrettanto bello in questo maniero Quindi sono davvero super soddisfatto Io ne ho segnati altri su Pop in a Box Come ad esempio quello della caserma degli Echiappafantasmi O quello di Jack Skeleton Ne ho segnati davvero diversi E spero che magari il mese prossimo me ne arrivi un altro Davvero super super bello E super super soddisfatto Ragazzi Per chi volesse maggiori informazioni Sugli abbonamenti di Pop in a Box Trovate sia tutti i link sotto in info box E come vi dicevo anche nelle schede Troverete il mio video precedente Dove vi ho spiegato in maniera un po' più completa Come funziona l'abbonamento Ma ragazzi Devo dire che ne vale assolutamente la pena Sono super soddisfatto E come vi dicevo Molto molto probabilmente Continuerò a tenere attivo l'abbonamento Anche nei mesi successivi Perché assolutamente ne stravale la pena E arrivate a pagare Pop come quelli Town O come questo qui Ride Allo stesso prezzo di un Pop semplice Di un regular Quindi sono davvero super super contento L'ho detto mille volte Ma è la verità E ragazzi naturalmente Per qualsiasi domanda Dubbio Perplessità Potete commentare sotto nel video E anche cercarmi su Instagram Antonio.seria Sono sempre super contento Di rispondere a tutte le vostre domande E tutti i vostri dubbi So che molti di voi Si sono già abbonati Mi sono arrivate anche delle foto So che a molti è arrivata anche La box di Harry Potter Come arrivò a me il mese scorso E quindi sono super contento E anche che alcuni hanno trovato il Chase Quindi ragazzi Sono davvero super soddisfatto Di questo nuovo servizio E naturalmente Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti Detto questo Direi che devo dare un bel taglio Alle mie chiacchiere Altrimenti questo video Non finisce più E naturalmente Noi ci vediamo prestissimo Con tante altre novità Ciao 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 Grazie a tutti.